Fran Cuncini, ospite al CIV, da ex campione italiano e del mondo, come trovi questo CIV 2011? Fantastico, veramente fantastico, non me l'aspettavo di vederlo così cresciuto, così ben professionale, devo dire che sono rimasto favorevolmente molto colpito, mi piace molto e sono contento di essere qui, di averlo visto e toccato con le mie mani. In vacanza al CIV però nel moto mondiale si lavora sempre e tanto, ci sarà qualche novità? Cosa ci aspettiamo? Guarda, innanzitutto il fatto di essere qua è anche perché noi, come appunto ha annunciato prima il vicepresidente, siamo in attesa di nuovi italiani, insomma qualche nuovo italiano che all'orizzonte prenda poi il posto di quelli che sono gli attuali campioni, vari Valentino eccetera, per cui direi che ho visto che qui si sta facendo un bel lavoro, per cui sicuramente tra breve, dopo grazie a questo lavoro ci saranno degli italiani che saranno sicuramente dei buoni sostituti.